...ell'Udinese, Paredes per Nainggolan, Dzeko andava via la porta a vuoto, 82esimo minuto, 3-0 Roma, assist di raggio a Nainggolan per Edin Dzeko, c'è il 3-0. Il pallone sul sinistro cerca proprio Dzeko, di testa, la sponda per Strootman, e il pallone in gol, la Roma raddoppia al primo minuto del secondo tempo, con il primo gol in questa stagione di Kevin Strootman. Dzeko, 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 il dribbling, Edin Dzeko, Edin Dzeko pareggia per la Roma al 61esimo minuto, il secondo gol in campionato per il Bosniaco, un gol importante per la Roma, un gol ancora più importante per il numero 9. Ottima questa palla di Totti e poi il pallonetto di Edin Dzeko, un gol meraviglioso nella sua realizzazione. Altra palla straordinaria per Salah che mette in mezzo e ancora Edin Dzeko, doppietta e la Roma dilaga calando il poker al minuto, 57 ancora Edin Dzeko. A puntare Santon, prova a prendere ritmo, palla per Bruno Peres, era di rigore, la mette in mezzo Dzeko! Edin Dzeko, la Roma in vantaggio, dopo 5 minuti sfonda sulla destra Bruno Peres, la mette in mezzo e Dzeko non fallisce, Roma 1, Inter 0, la firma di Edin Dzeko. Dzeko, ora deve ripartire con i balisti, Salah però la riprende, Salah, Nainggolan, il velo, Dzeko! Edin Dzeko, la Roma in vantaggio con il sesto gol in campionato di Edin Dzeko, il primo lontano dall'Olimpico. Il 24, palla che gira verso Dzeko! Ancora Edin Dzeko per il 2-0 della Roma, questa volta di testa, è lui la star della partita! Mettere giù la palla, Paredes, attenzione alla Roma centralmente con Dzeko, Salah! Ancora la combinazione, Dzeko-Salah e la Roma al 31esimo, sblocca il risultato! ha sofferto più del dovuto la squadra di Spalletti, ma va nuovamente a bersaglio. Florenzi, Dzeko! Il piazzato, il colpo di miliardo di Edin Dzeko, che fa 8 in campionato soprattutto, fa 3-0 Roma. Posizione regolare del Bosniaco. Controlla il pallone, viene strattonato, si libera comunque, serve Dzeko! Ed in Dzeko, 9 in campionato, ce l'ha scritto sulle spalle, il numero dei gol in Serie A Team, la Roma pareggia. Fischia da Mato, parte Dzeko, che va col destro in porta! Ed in Dzeko, doppietta personale e la Roma passa in vantaggio. Il cross con il destro a cercare Dzeko! Ed in Dzeko, sono 11 in campionato, ma soprattutto la Roma è in vantaggio dopo 7 minuti del primo tempo. Roma 1, Pescara 0. Perotti, va sul destro, fa il cross dentro verso Dzeko! Ed in Dzeko, la doppietta, 2-0 della Roma dopo 10 minuti! E sono 12 in campionato! Si fa subito complicatissima la serata del Pescara di Oddo! Ancora il Sharawi all'interno dell'area di rigore, potrebbe calciare, cerca il tocco per Dzeko, poi la palla rimane lì! Dzeko con il sinistro, mette in porta, non c'è fuorigioco e 2-1 per la Roma! Numero 13, il gol di Edin Dzeko! Rudiger... Il lancio dentro in era di rigore per Dzeko! Ed in Dzeko, questa volta non sbaglia e porta in vantaggio la Roma! Roma 1, Cagliari 0, al decimo minuto del secondo tempo! Aveva sbagliato un'occasione colossale nel primo tempo! L'attaccante della Roma non ha sbagliato! In questo secondo tempo... De Rossi... Ancora verso Dzeko, posizione buona... Dzeko! Ed in Dzeko! 16 in campionato, 23 in stagione! Non sbaglia mai! 1-0 Roma! Ed in Dzeko! Dzeko! E' un'occasione! E' un'occasione! Dzeko! Al posto giusto! Al momento giusto! Ed in Dzeko! 2-0 Roma! Alza la testa, palla dentro, ancora per Dzeko, cerca spazio per il destro... Prova! Roma in vantaggio! 10 minuti per Edin Dzeko! Fanno 19 in campionato! Agganciato il Pipita! Roma 1-0 Torino! 2-0! La Roma... Nengolan! Lancio di Nengolan! Dzeko! 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 A 2 all'ora! Il pallone termina in rete! Anzi! E' il gol numero 20! 20 gol in questo campionato! Per Edin Dzeko ed è 2-0 per la Roma in casa del Palermo! Dzeko raccoglie, cerca lo spazio per il tiro... Strootman 1-2... Dzeko! Arriva il 3-1 della Roma! Sono due gol di vantaggio adesso! Edin Dzeko! Paparedes, pallone che spiove! E poi la palla che rimane lì nella rete! Edin Dzeko! La sblocca lui in mischia! 1-0 Roma! Fortunato il bosniaco che trova il gol numero 22 in campionato! Ancora con Perotti! Nel mezzo a cercare Salah! Il colpo di testa è Dzeko! Edin Dzeko! Segna sempre lui! 2-0 Roma! Strootman per Dzeko, di prima per Salah in area di rigore! Salah! Con il pallonetto è tutto regolare! Assist di Dzeko! Segna Salah! 2-0 Roma! Ha trovato il varco giusto la Roma! Centralmente! Grande palla di Salah per Perotti! In mezzo c'è Dzeko! Perotti va da Dzeko! Ed in Dzeko! Il 3-0 Roma! 3-0 Roma! Ancora a segno! Ed in Dzeko! Ancora a segno! 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 Ancora a segno!